In questa settimana alcune altcoin si sono avvicinate a dei punti di breakout contro bitcoin estremamente rilevanti, stanno facendo dei buoni trend e soprattutto questi trend potrebbero anche continuare nei prossimi mesi. Siamo davanti ad un boom, ad un rally di queste altcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo nuovamente a vedere alcune crypto perché è un momento, secondo me, molto importante dove andare a focalizzare l'attenzione dei nostri investimenti, delle speculazioni anche in trading relative ad alcune altcoin. Perché stanno facendo dei numeri abbastanza buoni ma poi perché soprattutto il grafico sta parlando chiaro ragazzi. Oggi vediamo tre crypto che sono, secondo me, in una buona fase. Le ho indicate nella giornata di ieri in Academy. Purtroppo, lo dico tra virgolette, una di queste crypto oggi ha fatto già il pump, però le altre no, quindi andremo a vederle insieme. E poi due bonus alla fine del video perché andiamo a guardare delle crypto precedenti che vi avevo indicato in un video un mesetto fa che hanno fatto esattamente quello che ci si aspettava. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto lasciatemi super mi piace ragazzi. E niente, qui davanti a me ecco già il primo grafico ragazzi. Allora, non è la coin giusta, allora iniziamo a partire da AVAX. Avalanche è una crypto che in questa fase ha fatto un break assolutamente importante contro Bitcoin. Vi ricordo che tutte queste analisi noi le facciamo sempre contro Bitcoin, quindi crypto versus Bitcoin, perché l'idea è quella di andare ad incrementare i Bitcoin. Quindi operazioni in valuta Bitcoin, perché in questo momento di Burran, di trend assolutamente crescente dei mercati crypto e di Bitcoin stesso contro il dollaro, non ha molto senso andare a fare operazioni sul grafico contro il dollaro. Va bene, allora questo è il grafico di AVAX. Negli ultimi giorni avevo indicato il fatto che nella giornata del 3 novembre stava facendo un breakout rilevante. L'ho indicato in Academy, siamo entrati long anche con uno dei nostri trading system e siamo long da qui. Ora, qual è la questione ragazzi? La possibilità che questo trend che è iniziato esattamente il 19 di ottobre possa continuare e raggiungere i massimi storici del grafico AVAX contro Bitcoin. Anche perché la struttura di AVAX, la blockchain di AVAX, la questione legata alla DeFi che stanno utilizzando e si sta iniziando a muovere proprio adesso, quindi è possibile anche vedere un atteggiamento del genere anche per questioni legate proprio ai loro servizi in DeFi, eccetera. Allora, qual è il livello da andare a monitorare? Intanto questa è un'area che possiamo indicare come area di intermedia e poi vedete come è importante questo livello di massimo che è stato breccato. Questa è la solita campana che si va a creare quando un strumento finanziario va a breccare i precedenti massimi poi fa non un fake break in realtà perché in questo caso non è stato un fake break però fa la sua estensione e poi ritorna indietro. In questo caso è assolutamente normale vedere questo tipo di atteggiamento ma un rientro all'interno di questa fase potrebbe indicarci che questa criptovaluta può cercare di andare ad aggredire questi livelli. Siccome il livello di distanza e quindi eventuale rendimento è abbastanza rilevante da qui perché siamo intorno al 50% e se poi va a breccare questi massimi chiaramente si porterà ad un'estensione ulteriore come ha fatto precedentemente qui quando ha fatto il break poi è andato in estensione allora c'è un rischio rendimento assolutamente buono per AVAX ecco perché siamo entrati long e poi si attende ovviamente perché il mercato deve darci la conferma di continuazione di questo trend che vedete disegnato in questo momento è questo qui ok quindi deve continuare a reggere questo trend e soprattutto anche se qui cincischia non è un problema perché si riporta qui deve andare poi ad aggredire questo livello bene questa è la prima coin che andiamo a vedere oggi vi mostro anche le altre che ho disposto allora DOT pronta al rally DOT è stato il capolavoro diciamo no capolavoro no scherzo ragazzi come sempre dito allora nel presente video guardate quello delle top 5 che vi avevo indicato lo scorso mese troverete DOT troverete questo punto qui di acquisto esattamente questo qui che vi avevo indicato in quel video proprio con la teoria dei cicli da 80 giorni insomma DOT l'ha rispettata alla perfezione e ha iniziato questa sua fase ma non è finita qui perché è anche lei come vedete nello stesso identico punto di AVAX tralasciando questa campana qui che si verifica insomma come vi ho spiegato prima in questo momento sta tentando un break dei massimi ieri ha provato oggi sta ritornando indietro per fare il famoso pullback potrebbe innescarsi un eventuale spirale fino ai massimi e poi da qui il gioco si fa ovviamente duro qui è stata una questione legata alle aste paraceni come sempre di DOT questo è normale però questo ciclo se è così si va a dimostrare appena iniziato potrebbe essere profittevole quindi ancora long su DOT ancora si continua è in attesa del raggiungimento di questo livello che da qui in poi ovviamente la questione si fa un po' complicata per questa criptovaluta però se dovesse riuscire a breccare potrebbe addirittura anche avvicinarsi su questa area di prezzo contro bitcoin circa 12 escluso 0 quindi 0,0012 satoshi va bene allora questa è l'altra criptovaluta che avevamo visto oggi ve ne porto un'altra ancora che invece è da ieri che sta facendo bene ma oggi ha fatto il pump ragazzi mi dispiace ok ma il video era programmato per oggi quindi ieri non potevo farlo va bene allora indicata ieri nella mia academy CRO ritorna ritorna a fare finalmente dopo un sacco di tempo quasi un annetto ritorna a fare un bel segnale long contro bitcoin il primo veramente rilevante che è questo qui ragazzi cioè il break che sta avvenendo in questo momento ieri era proprio vicina ma nella giornata di oggi proprio sta breccando infatti sta facendo più 23% contro bitcoin non il dollaro sui dollari è di nuovo ai massimi quindi ritorna un grafico accettabile per quanto riguarda cripto.com quindi il CRO che potrebbe continuare questa fase di salita nuovi progetti quindi tutto quello che riguarda questa azienda si muove nel modo giusto ovviamente anche loro saranno da regolamentarsi come Binance sono le solite questioni ma questo non spaventa i mercati delle criptovalute e sta ricominciando questa fase di salita allora cripto.com non si muove con trend estremamente lineari rispetto a quelle che abbiamo visto finora come criptovalute si muove in maniera più discreta si dice così in termini statistici cioè fa dei pump e poi linearizzano cioè si muove in forma lineare cioè si mette in orizzontale questo tipo di atteggiamento l'è iniziato dopo questa fase questo è stato un cash out ovviamente del token quindi insomma che ha cambiato tutto poi da qui ha cambiato diciamo politica quindi è tutto un altro mondo da questa parte io direi di tralasciare questo grafico praticamente poco utile perché era quello precedente allora da qui in poi si sta andando a muovere in maniera vedete discreta 1 1 1 1 allora non ha mezze misure questa è la questione quindi quando spara spara e fa questi candeloni anche perché magari c'è qualche innovazione come si fa a cavalcare questi tipi di trend in anticipo bisogna stare in anticipo lo so sempre scontato dire bisogna stare in anticipo allora in questo caso proprio non si può attendere il breakout questo significa in anticipo quindi bisogna entrare quando il mercato è vicino al breakout ma ancora non l'ha completato quindi quando noi diciamo attendere la conferma e bla 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 in questo tipo di grafici non si può fare quindi bisogna assumere il rischio che poi non lo fa e quindi torna indietro quindi il rischio in questione è proprio legato per esempio vi faccio vedere qui a questo tipo di logico boom boom ok questo ovviamente non è un breakout lì non c'era un breakout ma qui che si è ostinata per esempio andare in questi punti di vicino poi è tornata indietro vedete anche di qualche giorno quindi si deve accettare questo tipo di rischio quali sono i livelli li vedete segnati qui bisognerà capire dove va a confluire questo trend potrebbe magari riportarsi qui in questa zona e poi iniziare a lateralizzare di nuovo quindi fare 1-1-1-1 ancora c'è spazio purtroppo questo 23% è sfumato diciamo in questo video io l'ho indicato ieri nella mia academy però ieri sera quindi non sono riuscito a fare il video in tempo va bene andiamo ai bonus di oggi per quanto riguarda le altre criptovalute che vi volevo far vedere una è Luna l'abbiamo vista nel precedente video anche lei e poi vi do un tocco anche su alcune criptovalute che sto seguendo va bene facciamo così allora Luna guardate il ciclo che avevamo indicato in quel video 70-70 83 l'ho indicato così insomma un'ottantina ragazzi l'ho messo così tanto non è importante dove finisce nessuno sa dove finisce un ciclo ovviamente non è preciso al giorno ma non è quella la tecnica che si sta utilizzando allora questa struttura è ancora profittevole per quanto riguarda Luna che è un po' indecisa ed è normale potrebbe avvicinarsi vedete in questo punto inizia a cincischiare e poi deve decidere il da farsi allora ancora una volta questa criptovaluta è in una buona fase però va tenuta sotto controllo perché intanto è salita tantissimo nei precedenti mesi nei precedenti settimane un po' come Solana però se non riesce a sfondare questo livello quindi facendo un doppio massimo rischia gravemente di fare un ciclo negativo perciò ok ancora andare long su questa zona questo era il livello chiamiamo indicato di ingresso in DIP se vi ricordate sempre in quel video trovate tutte le descrizioni di queste fasi e poi da qui in poi va bene arrivare anche a questo livello ma da qui attenzionate la criptovaluta perché se non riuscirà a breccare o comunque anche se lo fa probabilmente lo fa di poco e dopo ritorna a fare una cosa del genere quindi mi starei molto attento in questa fase a monitorare questo trend perché potrebbe essere un trend esaustivo cioè di fine percorso di quello che è iniziato a maggio dello scorso anno ma di quest'anno scusate ma guardate un po' da dicembre dello scorso anno che cosa ha combinato questa criptovaluta secondo bonus della giornata sono un po' indeciso ragazzi comunque vi faccio vedere Phantom perché mi piace tantissimo quello che ha fatto cioè il nuovo rimbalzo sulla sua media questa è una media di natura semestrale quindi 26 periodi che utilizzo diciamo più che altro sul weekly ragazzi qui sul daily è molto simile a quella 21 che uso sempre anzi me la metto a 21 non è che cambi granché perché tanto si avvicina comunque in linea di massima quella 21 è più giusta allora questo è il rimbalzo che avviene sempre di Phantom su questa media mobile allora si avvicina cincischia poi rimbalza si avvicina cincischia poi rimbalza allora questo rimbalzo sarà di nuovo porterà un nuovo massimo ecco questa è la domanda che un trader qui potrebbe farsi e dire ok arriviamo di nuovo a un massimo a un 50% di spazio posso andare a fare una buona operazione di trading contro bitcoin alimentare del 50% i miei bitcoin messi qui significerebbe non è per niente male non sto neanche spingendo target senza senso vedete è molto vicino al precedente massimo si può fare sì però è anche vero che questo tipo di atteggiamento di queste criptovalute 1-1-1 potrebbe essere l'indicazione di un trend in esaurimento perché vedete i massimi sono molto più vicini rispetto ai trend precedenti questo significa che il mercato è stanco di fare nuovi massimi quindi se anche fosse un atteggiamento del genere ricordatevi qui di iniziare ad attenzionare molto questo grafico per eventualmente fare dei take profit ovviamente ragazzi non abbiamo nessuno di noi la palla di vetro e non vi do consigli finanziari è quello che faccio io queste sono delle metodologie che uso io vi consiglio di utilizzarle così anche potete ampliare la vostra cultura finanziaria questa cultura di investimento di trading e phantom è un'altra cripto da attenzionare bene cosa ne pensate di queste tre invece quelle che vi ho mostrato CRO DOT e AVAX che mi interessano anche per questa fase siete posizionati CRO io ce l'avevo ancora nella DeFi wallet l'ho smobilitato devo essere sincero l'altra volta ma sta aspettando un mese di tempo per diciamo chiudere quella DeFi perché volevo provare altre cose sempre con il CRO bene ragazzi allora questo è tutto per quanto riguarda questo video fatemi sapere cosa ne pensate voi ce n'è un'altra coin che mi sta interessando magari la portiamo settimana prossima che è il BNB sta facendo una bella cosa ma l'ha fatto solo oggi quindi poi lo vediamo in un altro video va bene ciao a tutti ho detto tutto sì tutto qua ciao ciao a tutti